L'incidente in mezzo ai boschi tra Rivare e Pratiglione, domenica 13 gennaio, intorno alle 15. Un uomo è rimasto schiacciato sotto il trattore che si è ribaltato mentre stava risalendo la china. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti e i volontari di Rivarello Canavese, l'ambulanza della Croce Bianca del Canavese, l'elicottero dei vigili del fuoco con i SAF, l'eliambulanza del 118 e i carabinieri. Inutili tentativi di rianimarlo. I sanitari non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso. Grazie a tutti.